Allora, buongiorno, oggi siamo? Sì, i mercatini anche c'è in fondo. Ah, sì. I mercatini, i colleghi. E questo è il vialone che vedevamo nelle foto. Marco, sto vloggando. Andiamo, andiamo a trovare i colleghi. Allora, intanto questa è la... Guarda il cartellone grosso. Noi vogliamo dentro anche vedere gli musei. Andiamo. Dove c'è la cosa... Comunque è questa, quella che vedevamo. Sì, ma per quello, se tu metti il navigatore e ti porta qua la chiesa, per quello che ti dico i cartelli che ti portano giù... No, ma questa è la strada macchina. Vediamo su quella penale. For corte, questo. For corte. Sì, vediamo che fai i mercatini qua, così... Ma scusami, ma perché c'è sto bordello qua? Carnevale. Ah, che carnevale? Bergamasca è carnevale. Dai Marco, facci da Cicerone anche qua. Non ne ho un paio di idea. Come vengono andando a prendere? Qui c'è sopra tutto il giro, diciamo, turistico da fare per vedere la salva del Papa, lì la... Come vede una parola giusta. Eh. Dentro la teca di vetro c'è una specie di giretto da fare. Niente, noi ormai a domenica facciamo i nostri giretti, però è finita la festa perché la prossima settimana si parte anche noi... No, no, se chiediamo loro che fanno i mercatini, che organizzano i mercatini, che organizzano quello che noi fanno i mercatini e strumento. È proprio curiosa di vedere chi c'è laggiù. Eh? Che faccio che troviamo colleghi che rivediamo in giro durante l'anno. Che bella giornata! E' il copyright, zia! Zia! A dopo! Adesso stavo scaricando la canzone, non la faccio in casa. Che è pesante? Allora! L'inizia, la giornata! Non c'è la giornata! Non c'è la giornata! Perché la potenza viene la giusta? Questa? Questa? Io mettiamo questa. Pienes. Questa ce l'avevo, non ricordo che ce l'avevo, non so com'è finita. E poi questo, quanti ricordi... Questa è la vista. della chiesa qui c'è il mercatino dell'usato noi non facciamo questi mercatini qua è vero ma noi non facciamo i mercatini dell'usato noi facciamo quello dell'artigianato dell'artigianato facciamo l'artigianato dell'artigianato vabbè assaggiata c'è una bella giornata ci sta allora sono saliti su oddio non è che mi fanno impazzire a messo posto è stato più bello da scorsa settimana però vabbè non ci sono mai stata adesso entramo in chiesa e vediamo com'è ovviamente dentro non posso riprendere nulla anche la camminata non è questo gran che si potrebbe andare su di là beh non vediamo qua c'è il campanile bello si c'è un po' di vento fa anche freddo vabbè adesso aspetando marco la statua di papa giovanni come le porta il rilievo wow guarda che bella c'è questo forte spettacolo proprio eh il mio marito intanto è già intanto mi non aspetta il santo il santo marco ma che bella bella mi piace finito c'è stato gran che da vedere abbiamo visto il mercatino abbiamo visto la chiesa e allora parcheggiare o qui o là o comunque farsela a piedi eh si la barca è tutta in salita scusatevi niente raga il blog finisce qui mamma che tristezza di vlog questo è proprio un vlog triste questo possiamo chiamarlo vlog triste vlog short vlog short vlog anche si dunque guarda si sta riempiendo il mercatino uh non vedo l'ora di fare il mercatino io prossima settimana a monza venerdì 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 sábato e domenica si come si chiama il mercatino Marco come si chiama il mercatino Marco la festa del del della festa del della marionetta una roba del genere si festa delle marionette una roba del genere comunque niente niente raga io spero comunque di avervi fatto un po' di compagnia che è quello che insomma per cui facciamo i vlog e poi una volta che arrivavi da qua cosa facevi? salivi su di là ah vabbè ce l'ho dicendo che facciamo i vlog per farvi un po' di compagnia e scusa facciamo il giro anche noi ma io sento puzza di bruciato eh arriva da fuori ha bruciato qualcuno ah poi l'usanza è evitato bruciata per passare la strada guarda i coriandoli guarda che bello sai come è contento lo stradino spazzino come è contento ah ma guarda quanti coriandoli mi chiedo lì i venti che sai ci portiamo i coriandoli in casa e Marco fa calduccio cioè fa freddo ma non si capisce tanto bene secondo ci vuoi portare i coriandoli in casa mi sa che di qua è passato tutto mi sa di qua sono passati i carri i carri i tuoi sono passati di qua comunque stavo dicendo speriamo di avervi fatto un po' di compagnia ma si perchè non devi aver fatto compagnia mmm si oddio quasi quasi mi hai voglia di andare ad Arese a me no a me no guarda andiamo ad Arese Marco no fare un giretto siamo fuori strada è tardi è tardi il tempo che ci mettiamo da qua ad andare ad Arese è lo stesso che devi aspettare in colonna per andare al parcheggio no amore non hai detto eh no deve essere arrivata a te non c'è nessuno no sicuramente qualcuno ci sarà al supermercato poi al carnevale al carnevale al centro commerciale la gente ha bisogno di farlo la Katia oggi andava ad Arese ciao Katia ciao Katia vai a Teresa e andava a far spese la Katia oggi poi mi racconterai Katia va bene raga noi vi salutiamo adesso andiamo a casa tranquilli e niente ci vediamo alla prossima con una favela sì dai alla prossima ciao ciao a tutti ciao 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 ciao